Dunque, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio di sei giorni in Russia, siamo molto soddisfatti delle guide, degli autisti ed è stato molto interessante dal punto di vista culturale perché appartiene a una cultura diversa dalla nostra Mediterranea e ci ha colpito tanto sia le chiese come i palazzi imperiali, sia il sacro che il profano.